Per le imprese del nostro territorio, trovare mano d'opera è più difficile che fronteggiare i rialzi delle materie prime o gli effetti della guerra in Ucraina. Non è una battuta, le aziende faticano davvero a reperire lavoratori di ogni specializzazione. E dove non arriva il passaparola, le ricerche tramite agenzia, le associazioni di categoria si muovono da sole. Come Apileco Sondrio, che da qualche giorno ha lanciato sul suo portale www.apileco.it la nuova sezione Cerca e Trova Lavoro, dedicata alle aziende associate e a chi sta cercando una nuova opportunità lavorativa. Dopo il Covid esplosa questa grande esigenza di personale nelle nostre aziende, commenta Marco Piazza, direttore dell'associazione di categoria, che nonostante le difficoltà stanno lavorando molto bene e gli ordini non mancano. C'è fame di tecnici specializzati, ma anche di operai generici che le nostre imprese faticano davvero a trovare. Così ci siamo chiesti come potevamo aiutarli e abbiamo deciso di dare vita a questo nuovo servizio. Visto che conosciamo bene le nostre imprese, conclude Piazza, abbiamo deciso di cimentarci in questa nuova avventura che sarà non certo semplice e non risolverà tutti i problemi delle aziende, ma speriamo possa essere d'aiuto per qualcuna. Semplice il funzionamento, le imprese associate accedendo all'area riservata del sito possono caricare l'annuncio di lavoro. I candidati invece potranno consultare le singole offerte e inoltrarne una propria se nessun annuncio pubblicato corrisponde al profilo professionale.